E' distrutto, il commercio è distrutto, l'hanno distrutto. Shopping, la ripresa ancora non c'è in Campania, non solo il Covid ci si mette anche il maltempo in questi giorni a frenare la corsa agli acquisti. A Napoli il vomero si presenta semivuoto, sta andando un po' meglio a Chiaia ma soffrono soprattutto le periferie. Anche negli altri capoluoghi solo timidi segnali di ripresa, ma ancora non basta. All'orizzonte un Natale amaro per i commercianti con perdite anche oltre il 50%. C'è chi se la prende anche con le istituzioni per non aver preventivamente adottato misure a sostegno della categoria. Un Natale è triste e dobbiamo tenere duro perché purtroppo abbiamo giocato troppo con la natura. La cicala ha cantato e le formiche che siamo noi cerchiamo di prendere il bricciolina di pane. Il Covid, maltempo, le persone hanno paura di uscire, le persone non potranno recarsi in abitazioni altrui per portare il pensierino, il regalino di Natale. Quindi è tutto, non lo so come definire questo momento. Poi ci si mettono anche Amazon, eBay, tutte queste piattaforme. Con il maltempo, il Covid purtroppo non stiamo lavorando come dovremmo lavorare. Che Natale sarà per voi? Difficile, abbastanza. Speriamo che le tante promozioni che abbiamo in negozio ci aiutino a riprendere un po' tutti questi mesi così, un po' lenti.